Firenze 4 agosto 2021, vi do una news, il PM Luca Turco della Procura della Repubblica di Firenze denuncia alla Procura della Repubblica di Genova il sottoscritto Alessandro Maiorano per presunte molestie. La Procura della Repubblica di Genova al volo apre un fascicolo. Questa è la notizia di stamani mattina, io sono molto felice anche di questo, anzi invito la Procura della Repubblica di Genova anche a fare un'indagine sulla sorella del PM Luca Turco finita in una inchiesta fiorentina e dove tutti, specialmente il PM Luca Turco, ha fatto finta di nulla. Saluta da sore del PM Luca Turco. Grazie. 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 Grazie.